La crisi offre all'Europa l'opportunità di ripartire dai pilastri indicati 60 anni fa dai suoi padri fondatori. La centralità dell'uomo, una solidarietà fattiva, l'apertura al mondo e al futuro, il perseguimento di pace e sviluppo. Papa Francesco lo ha ricordato ai 28 capi di Stato e di governo europei ricevuti in Vaticano alla vigilia delle celebrazioni per il 60esimo anniversario dei trattati di Roma, dai quali prese vita la comunità europea. Nel suo lungo e appassionato intervento il pontefice ha sottolineato che è leader europei spetta ora il compito di discernere le strade di speranza, superando le spinte centrifughe e anche la tentazione di ridurre gli ideari fondativi dell'Unione alle necessità produttive, economiche e finanziarie. Per dare speranze e futuro ai cittadini europei e alla lunga colonna di donne, uomini e bambini in fuga da guerra e povertà che bussa alle porte dell'Europa, ha detto il Papa, bisogna riscoprire il senso di essere anzitutto comunità di persone di popoli che soffre insieme oggi con il Regno Unito per le vittime dell'attentato di Londra. La solidarietà non è un buon proposito, è caratterizzata da fatti e gesti concreti che avvicinano al prossimo in qualunque condizione si trovi. Al contrario, i populismi fioriscono proprio dall'egoismo che chiude in un cerchio ristretto e soffocante e che non consente di superare la limitatezza dei propri pensieri e guardare oltre. Occorre ricominciare a pensare il modo europeo per scongiurare il pericolo opposto di una grigia uniformità, ovvero il trionfo dei particolarismi. L'Europa ritrova speranza, ha concluso Papa Francesco, quando offre ai giovani reali possibilità di lavoro, quando investe nella famiglia, quando garantisce la possibilità di fare figli e di mantenerli e difende la vita in tutta la sua sacralità.